Mezz'ora al buio per Piazza del Popolo e il Palazzo del Comune. Nella serata di giovedì 10 febbraio, fra le 20 e le 20 e 30, si sono spente le luci nel cuore del Centro Storico Pesarese, così come a Fano, Vallefoglia e in altre 3.000 città italiane, nell'iniziativa organizzata dal Lanci, per dire no al caro Bollette. Luci che si spengono per accendere un riflettore e chiedere il ristoria al governo su una tematica che sta mettendo in ginocchio privati cittadini, così come enti pubblici. Sono settimane che lanciamo quest'allarme del tutto sottovalutato, perché l'impatto dell'inflazione è un impatto su tutta la società e giustamente il governo si sta preoccupando di dare risorse per le imprese, per le famiglie che non riescono a pagare le bollette. Ma l'impatto dell'inflazione è tremendo anche nei bilanci comunali e quelli provinciali. Non solo tutta la questione energetica, luce e calore che riguarda i beni comunali, uffici, scuole, asili, biblioteche, musei, impianti sportivi, piscine. Ma oltre a questo c'è anche la ricaduta sul bilancio, sui contratti, sulle convenzioni. Tutti i servizi, molti servizi che il Comune gestisce sono esternalizzati e nelle gare che si fanno c'è ovviamente previsto l'adeguamento Istat. Un aumento del 4% nel 2022 di tutti i contratti che i comuni hanno, fanno saltare i bilanci comunali.